Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su exotic farm come promesso vi avrei portato sul canale l'aggiornamento per quanto riguarda la vasca di 120 litri che avevo allestito senza spendere neanche un euro come vi avevo promesso dopo un mese e mezzo l'avrei portata solo che visti i recenti cambiamenti che ho apportato alla vasca ho deciso di portare un video dopo 3 settimane di allestimento e un secondo video dopo 6 settimane di allestimento quindi vedrete due video aggiornamento in questo nuovo video vi farò vedere quando ho montato l'impianto di CO2 perché in una vasca così piantumata non può mancare vedrete anche l'unboxing della nuova pianta cioè la ballisneria gigantea una delle nuove piante che ho inserito in vasca e poi vi farò vedere delle clip dove andrò a riprendere nei particolari i cambiamenti della vasca cioè le nuove piante le lumache che la ospirano cioè le fise marmorata e appunto i piccoli cambiamenti per quanto riguarda l'arredamento della vasca questo video sarà un po' diverso perché sarà composto oltre che dalla mia voce appunto da delle clip con appunto la musica questo per non rendere troppo monotona la ripresa è un po' diverso 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 è un po' diverso